L'arrivo e la permanenza di un cittadino ucraino nel territorio della provincia di Salerno va documentato compilando un apposito modulo scaricabile anche dal sito internet del Comune di Salerno, non solo dal profugo ma anche da chi offre ospitalità. A chiarirlo è il Comune di Salerno che, con un'apposita nota sul proprio sito, ha messo a disposizione tutta la modulistica per regolarizzare la presenza dei cittadini in fuga dalla guerra che sta colpendo la propria patria. Chi arriva è tenuto a denunciare la propria presenza compilando un modulo valido 90 giorni e scaricabile dal sito del Comune con fotografia, fotocopia del passaporto, all'ufficio immigrazione e ai commissariati per il territorio che si occuperanno di trasmettere tutti i messaggi al servizio immigrazione. Ma anche chi colloca un cittadino ucraino ha tenuto a darne comunicazione scritta all'amministrazione locale, la pubblica sicurezza. Anche in questo caso occorre compilare un modulo presente sul sito del Comune di Salerno. A breve l'amministrazione comunale allestirà anche un punto informazioni nei portici sotto il teatro Augusteo. Intanto da stamattina in piazza Luciani c'è un camper per effettuare i tamponi ma anche per il rilascio della tessera di straniero temporaneamente presente che consente ai cittadini ucraini di usufruire dei servizi del sistema sanitario. Gli stessi servizi vengono erogati anche presso l'USCA al capitolo San Matteo ogni giorno dalle 8 alle 14. Con un'ordinanza pubblicata ieri intanto il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca ha costituito il comitato regionale per il coordinamento degli interventi e delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina. Il comitato che ha sede presso la sala Emerson della protezione civile regionale è composto tra gli altri dal presidente della giunta regionale, il prefetto di Napoli, il presidente dell'Anci ed il direttore generale della protezione civile.